Senti, ma non si può andare subito? Eh no, devi essere in lista, oppure devi essere un personaggio famoso, tipo un calciatore, che ne so? Guarda la tua visione! Guarda il calcio! Gullit! Scusa, sono... Gullit. Non ho capito, chi sei? Gullit. No, 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 aspetta! Tu sei Ruth Gullit! Yes! Esatto! No, ma ti prego, idolo, facciamo di sto serpio! Mamma mia, che idolo! Prego, prego, buona serata! No, vengono, sta manciata! Grazie! Lui è un amico mio! Ah, io sono viralista, forza mila! Super! Ma chi è? Oh, è Gullit, ma non riconosci, ma non riconosci, ma non riconosci, ma non riconosci a terra! No, grande Gullit! Il mio amico, Gullit, 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 scopera! Su, forza! Prego! Ragazzi, dovete alzarvi! Il tavolo è riservato! Che cazzo dici? Io ho pagato 5.000 euro, scemo! Dovete restare spazio, i VIP che arrivano all'ultimo momento, forza, alziamoci! Ma dai, non è possibile, però dai! Oh, raga, ma non avete capito che ha Gullit! 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 Andate, fai fuori dalle palle! Voi no, no, voi rimanete, rimanete qua! Cosa vi passa da bere? Un bianchino! Ma che bianchino? Da poveracci, bianchino! Don Bericchione per tutti! Gullit! 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 Grazie a tutti.